Secondo stage stagionale per la scuola calcio del Macchitella Gela con i tecnici dell'Arsenal Italia. Un appuntamento sportivo che ha visto nuovamente la partecipazione di tanti giovani atleti della società sportiva bianco-rossa in vista anche della selezione finale che vedrà un atleta partecipare ad uno stage, questa volta direttamente sui campi da calcio del club inglese. Al campo Mattei di Macchitella i tecnici del Macchitella assieme al coordinatore regionale dell'Arsenal hanno applicato le metodologie di allenamento previste dal programma condiviso con il club inglese. Una bella serata di crescita sicuramente per questi bambini meravigliosi e di grande confronto anche per me, per gli allenatori perché chiaramente poi diventa un momento di crescita anche per me e per il sottoscritto perché poi confrontarmi con questi bambini è sempre un momento di grande crescita anche per me. Cerco di portare qualcosa della nostra metodologia inglese e cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. È stato comunque oggi un ottimo pomeriggio, ho notato anche una crescita sia dei ragazzi ma soprattutto della società. C'erano delle cosette su cui dovevano lavorare e ho visto che l'hanno fatto molto bene, quindi bene così, stiamo andando bene. Questo è il secondo incontro con Giovanni Carofalo, il coordinatore di zona dell'Arsenal. È stata innanzitutto una giornata di festa per i bambini, sono contentissimi, lo hanno dimostrato in diversi modi. Il mister è anche soddisfatto per l'andamento degli allenamenti, i ragazzi hanno imparato anche nuovi schemi quindi le prospettive di crescita per questi giovani atleti ci sono. L'importante è che si siano divertiti, abbiano imparato cose nuove e tra di loro ci sarà poi chi verrà scelto per andare a Londra per fare uno stagio di due settimane lì con il club inglese. La base della nostra società è la crescita, il sostegno a questi ragazzi dal punto di vista personale, quindi non solo sportivo. Cerchiamo di dar loro i sani valori, di istruire loro ai sani valori dello sport e in questo anche l'Arsenal, la persona di Giovanni Carofalo, ci è molto vicino. Quindi speriamo che un domani questi ragazzi possano crescere prima uomini, sia dentro che fuori dal campo e poi perché non anche i campioni.